Credo che questo ruolo sia un ruolo sicuramente importante, non dico determinante, ma per la buona riuscita della nostra candidatura, credo che il ruolo anche degli imprenditori possa e debba essere un momento da non sottacere. Comunque io volevo nel mio brevissimo intervento, per evitare poi di essere ripetitivi, perché sostanzialmente, almeno come concettualità, esterniamo sicuramente questa grande disponibilità, questa grande capacità anche di poterci candidare, fermo restando che il percorso rispetto al quale in questo momento siamo chiamati a dare la nostra posizione è quella della disponibilità a candidarsi, rispetto alla quale chiaramente il discorso del tema di questa mattina, cioè mettere in rete le risorse, credo che sia sicuramente importante. La Camera di Commercio di Matera sicuramente poi deve dare un contributo, credo di averlo già esternato, lo formalizzeremo in questa prima fase, ma la parte un attimino più difficile è quella di capire come obiettivamente il territorio, la città, possa e debba rispondere rispetto a questo dato, perché credo che il percorso che in questa prima fase noi ci dobbiamo necessariamente dare è fare una specie di interrogazione al territorio rispetto al quale credo, non certo per ripetere il concetto dell'amico Gianni Pittella, che io condivido pienamente quando ci parlava di entusiasmo, di tenacia, di capacità, ma anche di disponibilità, soprattutto sotto il profilo della disponibilità e secondo me a livello istituzionale credo che la Camera di Commercio può e deve dare un grosso contributo in questo senso, ha bisogno di verificarlo sul territorio. A me piace anche ricordare, io qualche annetto fa ero anche insieme a qualche comune amico che vedo in sala, amministratore di questa città, sicuramente l'Avvocato De Ruggeri se lo ricorderà, quando ci candidammo al network delle città d'arti minori, quindi già da allora, credo sia passato più di un decennio, ma già da allora questa grande predisposizione di valorizzare questo momento culturale che noi reputavamo e reputiamo che sia sicuramente una grossa occasione di sviluppo per il nostro territorio erano delle cose che sin da allora andavano in qualche maniera valorizzate. Concludo, il ruolo delle imprese, il ruolo della Camera di Commercio che mi piace sottolineare ed evidenziare quando possa essere importante in questo momento ci sarà, ci sarà in tutte le forme e in tutti i modi che questo momento di rete ci darà l'opportunità di partecipare, perché credo sostanzialmente che l'entusiasmo, la tenace, la capacità ma anche la disponibilità del settore che è il mio onore di rappresentare debbano essere stimolate e credo sostanzialmente di poter preannunciare già una grande disposizione e disponibilità che noi in qualche maniera possiamo dare, perché credo che questa è una battaglia che merita sostanzialmente di essere fatta. Grazie.